Ah oh popolo di YouTube, io sono Eikile e oggi sono qui per spiegare alcune piccole cose. Allora, partiamo dal presupposto che questo sarà un video corto, quindi non mi indilungherò troppo. Ho bisogno del vostro aiuto. Ho notato che ultimamente nelle mie live c'è meno utenze sia su Twitch che su YouTube. Non mi sono chiesto il perché, sapendo che molti di voi studiano, lavorano o altro, quindi non me ne sono preoccupato troppo. Ma, se sempre un ma, vorrei avere un feedback da parte vostra, nel sapere se A le mie live intrattengono e B sapere quale orario e giorno potrebbe andare bene per fare live sia su Twitch, dove porterò giochi online, e su YouTube, dove porterò giochi single player o co-op. Quindi ho creato un gruppo Telegram dove poter organizzare il tutto insieme a voi, e così da poter sapere quando sono in live o no. Così che possa stare in contatto con voi, avere un feedback maggiore, suggerimenti e molto altro. Quindi, se avete suggerimenti, dirmi quali orari possono andare bene per voi o soprattutto parlare con me, qui sotto in descrizione avrete il mio Telegram. In più potete darmi suggerimenti qui sotto nei commenti di questo video così che possa organizzarmi anche in… senza dover entrare nel mio Telegram. Quindi, se volete darmi una mano, passate tranquillamente qui sotto in descrizione, dove trovate il link per Telegram, Twitch, donazioni e molto altro. Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto che mi darete e ci ritroviamo al prossimo video, o live. Auuuuuuu. Ciao! 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 Grazie.